Il licenziamento di guardiari degli altri 5 non è piaciuto a nessuno di noi. Lo sa che lei mi ha rovinato la famiglia. Noi siamo ad un passo per istare la bandiera rossa ovunque e per lei caro ingegnere questo non è una bella cosa. E quando questa bandiera rossa sarà istata lei che cosa farà? I cazzi miei brunetti. Io non conto niente, non faccio politica e lo stabilimento non è me. Lei non fa politica. La mia famiglia che dice? Mi risponda, la prego. Abbiamo modo di parlare. Non mi risponda, le ho detto! Non si permetta mai più un giugno. Devi imparare a tenerlo giù. Questo è il giugno. Nella DAS. La lotta è armata, signora, ricordatela. Devo ucciderti, hai capito? Hai capito, devo ucciderti. Io non ho paura. E io non riconosco il vostro sistema. Mamma.